Migliaia di persone ieri pomeriggio hanno affollato l'esterno della chiesa di Santa Chiara per portare l'ultimo saluto a Biagio Zanni, il 34enne morto dopo essere stato accoltellato sabato notte mentre cercava di sedare una rissa. La città di Trani non sceglie l'indifferenza di fronte ad un episodio che ha profondamente scosso tutta la sua comunità e offre una numerosa e spontanea partecipazione al dolore della famiglia di Biagio Zanni, di cui ieri sono stati celebrati i funerali. A salutare il passaggio del feretro all'esterno della chiesa, il lancio di palloncini bianchi con la scritta Ciao Biagio, i lunghi applausi dei presenti, le lacrime di commozione degli affetti più cari. La morte di Zanni è percepita come la sconfitta di tutta una comunità e dei valori su cui essa dovrebbe fondarsi, perché chi ha ucciso quella notte è molto probabilmente un minorenne. Lo ha fatto in pieno centro, sfruttando il silenzio e l'omertà di chi ha assistito alla tragedia eppure non parla, traendo vantaggio dalla scarsa presenza di forze dell'ordine durante la movida notturna che anima la città, soprattutto il fine settimana. Magistratura e carabinieri indagano sulla rissa che ha coinvolto mortalmente Zanni. Il cerchio si stringe attorno ad un gruppo di ragazzi, il più grande dei quali avrebbe solo 19 anni. Biagio abiterà lì dove c'è pace, la stessa che voleva portare in quella tragica notte, ha ricordato Don Alessandro Farano durante la sua omiglia. In concomitanza con i funerali è stato proclamato dal sindaco Amedeo Bottaro il lutto cittadino che molti commercianti hanno osservato tenendo abbassate le saracinesche dei negozi o spegnendo le luci dei loro locali. In mattinata molte scuole avevano osservato un minuto di raccoglimento per partecipare ad una tragedia che ha scosso le coscienze di tutti e non ha lasciato indifferente nessuno. Grazie.